E' finita l'estate, il 18 settembre ci troviamo a Pescara e sono ricominciati gli appuntamenti di formazione dedicati ad architetti e progettisti firmati da Action Group Editori. Il workshop di info progetto di quest'oggi organizzato in collaborazione con l'ordine di architetti e paesaggisti della provincia di Pescara e dedicato all'involucro edilizio, all'isolamento termico ed acustico. Vediamo. A noi a livello di prodotti riusciamo a dare una gamma molto vasta sia di materiali con spessori differenti sia di vetrazione che stiamo lavorando molto anche sul discorso dei vetri per poter alleggerire le strutture, quindi rendere delle ante meno pesanti e quindi poter fare anche specchiature ancora più grandi rispetto a quelle che si facevano in precedenza, avendo però il vantaggio di avere comunque un notevole risparmio energetico. Questo diventa ancora più importante perché, come ho detto durante il convegno, maggiore risparmio energetico e abbiamo maggiore risparmio economico, il tornaconto economico perché è minore la spesa che facciamo per poter riscaldare o raffreddare le nostre abitazioni, sono soldi che quindi ci restano in tasca. Di conseguenza è un guadagno la spesa che abbiamo all'inizio, ci permette di avere questo guadagno. Noi lavoriamo molto con il progettista cercando di suggerirgli quello che può essere la soluzione migliore in base alle richieste e a quello che vuole ottenere il committente e il progettista stesso. Questo è il lavoro che svolgiamo e parte dalla progettazione volendo.